ecco siamo qui buonasera ecco siamo qui al piazzale degli eroi numero 7 alla greperia di riccardo allora dici riccardo che cosa ci stai preparando di buono e stiamo facendo un'altra con una sottiretta a scabitigrana a salato inglese per la signora e poi abbiamo una nutella di questa quantina ma sono due creazioni facciamo presto che qui c'è la fila della gente che ha fame ciao 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 ciao